allora allora prima del video sulle paggene facciamo un breve una breve panoramica sulle partite che sono appena concluse abbiamo l'inter che praticamente passeggia a verona 6 a 0 nel grande v2 col dzeko 2 con lautaro non c'è mai praticamente è stata partita dopo il primo gol dell'inter gran gol di cialanoglu devo dire e niente l'inter ogni tanto tele piazza ste partite così però attenzione ma ramaldeggiare in questo modo quasi mai porta benissimo e attenzione che adesso vengono le partite toste anche per l'inter a roma le due semifinali di champions col milan e a proposito di milan il milan per me oramai ha la testa semifinale quando io parlo del milan riguardo la famosa lampadina ne parlo nel bene nel male questi oramai questi inconsciamente ci credono questi credono nella finale ragazzi altrimenti la partita di oggi che hanno rischiato di perdere l'avrebbero vinta è bastata una cremonese ordinata per tenere in scacco un milan così distratto che forse con la testa non non c'era il milan storicamente quando si sta per avvicinare il grande appuntamento di coppa fa ste cagate in campionato è sempre fatto l'esempio del milan di sacchi che ogni qual volta si approcciava si avvicinava la partita di coppa faceva una figura di merda ricordo uno 0 a 1 a ascoli 0 a 1 a cremona del milan di sacchi quello che vinse la seconda coppa dei campioni di fila quella col benfica quando parlo di lampadina milan ne parlo nel bene nel male invece l'inter 6 gol guardate paradossalmente non lo so se faccia proprio bene vincere 6 a 0 all'inter perché l'inter è una squadra che ha bisogno di stare sempre sulla corda per rendere sto 6 a 0 non so come lo vedo ma vabbè poi le romane la lazio ha battuto 2 a 0 meritatamente sassuolo rinviando ancora di un giorno la festa del napoli è la roma che è incerottatissima che ha pareggiato a monza a proposito ragazzi vi ricordate le prefiche abbiamo perso 6 punti col monza abbiamo perso col monza abbiamo perso col monza il monza ha vinto con l'inter ha pareggiato con la roma continuate a sottovalutarla questa squadra continuate che intanto mi sa che ottava o nonna in classifica continuate a sottovalutarla io vi dissi che sarebbe arrivato nella prima colonna tra le prime dieci il monza ve lo dissi ma il guaio è che io ve lo dissi che quando il monza faceva le sconfitte di fila inizio campionato e questo è zona champions come siamo messi adesso la lazio ci riscavalca però domenica va a milano l'inter va a roma va a roma è una sfida al calor bianco e noi andiamo a bergamo praticamente sarà un turno in chiave champions veramente affascinante sarà un turno che potrà riservare grosse sorprese secondo me grosse sorprese io guardate vedo pareggio fra roma e inter vedo una vittoria dal milan sulla lazio e noi che non vinciamo a bergamo mettiamola così noi non si vince a bergamo la lazio perde a milano e roma inter che pareggiano la vedo così la vedo così comunque domani ci approcciamo a festeggiare il napoli quando sarà matematico farò un video completamente sul napoli però oggi si è giocato più che per la zona champions poi faccio un breve inciso per la zona salvezza oggi ho visto dove praticamente hanno perso tutte tranne la cremonese oggi hanno perso tutte in zona salvezza tranne la cremonese praticamente che ha pareggiato a milano un punto che oggettivamente serve a poco la cremonese deve mordersi le mani per il pareggio in casa col verona deve mordersi le mani per il pareggio in casa col verona e soprattutto per non aver cambiato subito allenatore lei andava cambiato il mister che ballardini non è la prima volta che ribalta certe situazioni sarà difficilissimo per la cremonese però non per altro perché può dire possibilità ci sono verona oggi è crollato quindi lo spezia la squadra ce l'ha dico subito secondo me lo dico purtroppo da pugliese secondo me la cremonese deve fare la corsa sul lecce perché io sono convinto che lo spezia di raffa si riuscirà a tirarsi fuori perché lo spezia è una buona squadra meravigliano tutte ste sconfitte di fila la sandoria oramai la sandoria oramai mamma mia povera sandoria per oggi c'è una roba che vorrei dire in conclusione di questo video l'esultanza di pellegri del torino pellegri ex genuano che è andato a fare il gesto di cardi sotto la curva della sandoria se sai del lecce che ha fatto una sorta di esultanza zitti vicino al pubblico a torino vedete ragazzi io come giustamente non ricordo chi diceva io sono contrario alla munizione sono contrario a regolamentare ste robe qua guardate io non ammonirei neanche quando si tolgono la maglia quando vanno a esultare però poi ti tieni le conseguenze ti becchi gli insulti io penso che non ci sia deterrente migliore poi le regole non le faccio io e delle volte chi fa le regole pecca di buon senso vabbè dai iscrivetevi al canale tra poco video sulle pagelle di Juve Lecce grazie grazie grazie